Paola Uccelli è la portavoce del comitato Parco Paradiso. Tre mesi fa ci siamo incontrati quando un gruppo di migrati vennero alloggiati lì nel Parco Paradiso. Voi avete protestato per le condizioni inadeguate in cui avevano sistemato questi migrati lì al parco. Sono passati tre mesi e dopo una serie di promesse che vi sono state fatte, oggi com'è la situazione? Il fatto che ci avevano detto che per fine agosto massimo avrebbero risolto il problema, che era una cosa che si sarebbe risolta in breve tempo, ma niente. Noi abbiamo utilizzato tutti i nostri mezzi che il cittadino può utilizzare, quindi abbiamo fatto anche una petizione che abbiamo depositato il 2013 e conta 525 firme con parecchi fogli in allegato 31. C'è stata una grande immobiliazione del parco, tutti hanno aderito e quindi l'abbiamo presentata. Adesso superando i 500 noi speriamo che la politica comunale accolga anche la nostra richiesta. Noi vogliamo delle risposte. Una vera e propria battaglia quella che state portando avanti, ma quali sono le difficoltà che incontrate quotidianamente in questa convivenza? Allora diciamo che la struttura è stata messa a norma tra virgolette dopo l'ingresso degli immigrati. Hanno fatto dei bagni, perché prima ne contava un numero inferiore a quello che poteva accogliere gli immigrati. Noi sappiamo che sono 48 dalla nostra ultima contabilità che ci hanno indicato. Proprio il resto non ci sono mai stati controlli, non è mai passata la macchina dei vigili ogni due giorni. Abbiamo chiamato, perché ci sono stati dei piccoli disordini, i carabinieri che sono fuori non sono mai venuti. Insomma, abbiamo avuto questa difficoltà proprio di sicurezza del territorio, di controllo. Umberto Mercurio, il presidente del Comitato Ligola Mare Pulito. Voi avete sposato in qualche modo questa causa e soprattutto chiedete risposte alla politica a Pozzuoli. Noi abbiamo sposato questa causa, come l'abbiamo sposata già anche in passato, quando ci fu il primo tentativo di mettere i immigrati a Ligola Mare. Oggi siamo vicini al Comitato del Parco Paradiso perché riteniamo che il Comune di Pozzuoli non può sostenere, Ligola in special modo, non può sostenere il peso di altri immigrati. In questo momento noi quello che stiamo chiedendo e quello che chiediamo dopo la petizione che abbiamo fatto, i 529 firme, è quello che la politica putolana, quella che dice di essere sempre vicino ai cittadini, quella che dice che i cittadini vengono prima di tutto, si facciano carico almeno tre consiglieri, se ci sono tre consiglieri disposti, a sottoporre al presidente del Consiglio Comunale e inserirlo nell'ordine del giorno nella questione del Parco Paradiso. Ora, più che mai, abbiamo bisogno di risposta. Noi abbiamo fatto una petizione, abbiamo scritto fior di lettere, abbiamo avvisato sempre la prefettura di Pozzuoli, la questura di Pozzuoli. Tutti i nostri movimenti sono stati tutti segnalati quando abbiamo raccolto le firme. Quindi abbiamo agito nella legalità e nella norma. Chi non sta agendo nella legalità e nella norma, in questo caso, è l'amministrazione comunale di Pozzuoli, la quale, oltre a farci penare per avere i documenti che sono in nostro possesso, non riceviamo mai una risposta. Io credo che i cittadini meritino, a questo punto, delle risposte serie sulla situazione degli immigrati. Se questi immigrati devono rimanere lì, bene, qualcuno abbia il coraggio, ma deve avere veramente il coraggio, perché quando mi par di vedere il coraggio, in questo periodo ne vediamo poco in giro, di dire come stanno le cose.